3,30 x 50 cm sulla pianta, 3,30 cm in rieda e 50 cm tra le pietra. Qui al secondo anno iniziamo a raccogliere subito 500 grammi per pianta, da 500 grammi a un chilo per pianta. La produzione viene fatta in queste gemme basali, vedi queste gemme basali qui, sul legno di un anno. La produzione viene fatta da vetchi in taragodni, da pocchi a stvalù. In maniera che su questo legno dell'anno la pezzatura è sempre molto grossa. Più rispetto al massetto di maggio, questo qui è un massetto di maggio. Vedi quante gemme ci sono lì? 5, 6, 7? Ora crei proprio il grappolo di ciliegie e normalmente fai fatica a fare una grande pezzatura. Invece qui vedi che sono gemme tutte singole, qui fai la pezzatura. Qui c'è una rete, qui c'è una setta. che arriva a chiudere fino per terra. C'è una setta per terra. E questa è tutta, perché qui il problema è la drosofila Suzuki, è un moscherino molto piccolo che ti serve con la maglia stretta lì per proteggerla. Drosofila è? Drosofila Suzuki È un moscherino, una mosca che punge. Una mosca, una mosca che punge. Ma io lo so, lo so. Ti fa le uova dentro la ciliegie, quando nascono le larvi te la rovina. Te la stringe, ti sposte fuori tutto il sugo. È una roba cinese. È una roba città. È una roba città. tutto il momento della città la scatla. Keep in touch, è il nostro partner che fa la rete. Keep in touch, questo è il loro partner che ha lavorato sempre fondamentale. È www. Keep in touch, quello lì. Il campo questo qui è in collaborazione con l'Università di Scienze Agrarie di Bologna. Questo è più importante con l'università in Bologna. Noi qui facciamo quest'anno, quando siamo a giugno, facciamo un open day. Normalmente ci sono 300-400 persone che vengono. E se volete venire, è una cosa molto interessante questa. In giugno, dopo un anno, dopo un anno, dopo un anno, dopo un anno, non. Il giorno di aperto, quando vengono 300-400 persone. E vengono il loro figlio, vengono il loro figlio. E se volete venire, se volete venire. Voglio vedere anche le provi che abbiamo con Krimsk. Ci sono stati facendo le provi di VSL. Come dicevole, qui si chiama Krimsk. E ora vediamo, qual è l'alitatività. Quindi quando non vediamo i nostri clienti, vediamo i nostri clienti. Quindi quando vediamo i nostri clienti. Eccolo qui, Krimsk, abbiamo Gigera 3, Gigera 5, Krimsk 6, Weiroth, Weiji 2, molto importante, Krimsk 5 eccolo qui. Però sono portinesti di Krimsk 5 e 3 metri per uno e mezzo, perciò sono portinesti forti che spingono. Vediamo il PQ 3, 4, Gigera 13. Quando c'è la frutta su, se voi venite, vediamo tutti. Quando vi venite, ci saranno frutti? No, ovviamente. Ecco, per il cerese una cosa importante è sempre lo scolo delle acque. La pianta non deve mai essere dove c'è ristagno d'acqua. Questo qui, che stiamo facendo adesso, è molto importante. E quindi, perciò, perciò si chiude la strada, tutto quello che c'è ristagno d'acqua. Quindi, praticamente prende il terreno da qui e lo porta, e lo porta su, in modo che l'acqua scola sempre al cielo. per esempio la taglia di un bel taglia sulle e si metta la terra in un bel taglia in un bel taglia e si mette la terra in un bel taglia e questo è un bel taglia uno del 내야� ora faremo una potatura verde ora in settembre in settembre facciamo la potatura definitiva la facciamo a febbraio-marzo e facciamo la potatura Ora facciamo per maturare la gemma, maturare la gemma. Ora facciamo un'esplosione per avere un'esplosione di bocchia. E' la hydroponica o no? E' la hydroponica? C'è la manichetta. C'è la manichetta. C'è la manichetta. Ora facciamo i capelli. Devemmo prendere i capelli. Il sole pericolo. No, abbiamo un'esplosione nera e l'abbiamo per terra. Invece l'abbiamo messa di primo filo, ma non c'è. C'è la manichetta. C'è la rete. L'asciutto per poi diventare un po' più piccola. C'è la rete da piedi. Ogni tanto sotto la piedi. Ogni scelto d'acometto di provare i piedi. La seta è aperta, è aperta, è aperta. La seta è aperta, è aperta. La seta è aperta, è aperta. La seta è aperta. La seta è aperta, è aperta. La seta è aperta.